oggi mi piacerebbe piacere una felicità felicità alla mia madre madre che ha 81 anni oggi e poi pensavo ai vincitori di Sanremo questa è stata la duesima edizione di ieri che sono stati Mammut e Blanco con la canzone Brividi e poi pensavo al mio Napoli Calcio che ha vinto 2 a 0 nel campo del Venezia poi pensavo al World Nutella Day è un video sulla Nutella che devo caricare penso domani e poi ringrazio Mr. Lynch per questo Day 2 di Weekend Projects per il Fan Work Train, tutto il discorso eccetera ma se volete approfondire i discorsi e i punti leggete la descrizione perché non ce la faccio col tempo purtroppo per cui sì, leggete la descrizione Have a great day!